La nostra, la nostra, ovvero la parola di tutte le famiglie sfrattate, abbandonate dall'istituzione. La nostra, la mia, è un'escolta, abbandonate dall'istituzione. Allora noi pretendiamo adesso, man mano che i sindaci, penso, usciranno, a meno che non vogliono continuare a chiudersi qua dentro, che anche ci diano delle risposte, siamo in clima elettorale, come viene sfruttato? Che dato possiamo cogliere da tutto ciò? I candidati sindaci chiudono le porte alla cittadinanza e alla cittadinanza in difficoltà. L'emergenza abitativa è uno dei primi problemi in questa città. Noi vogliamo essere calcolati, vogliamo avere delle risposte. La casa è il primo diritto, la casa è la base per la dignità di una persona. Allora dove siete? Pazzino, dove sei? Ma ancora adesso non ti prendi responsabilità, speri di essere rieletto. E dove sono tutti gli altri? Vogliamo delle risposte. Casa per tutti! Casa per tutti! Sprati per nessuno! Grazie a tutti!